Salve a tutti ragazzi, come potete vedere non sono in ufficio, non ho neanche il microfono ma ho l'auricolare ma non potevo aspettare a darvi questa incredibile notizia l'avete già letta ovviamente dal titolo ma andiamo ad approfondire ulteriormente perché oggi è stata una giornata spettacolare all'interno del video, quindi non perdiamo altro tempo, metti mi piace e cominciamo Non me lo aspettavo neanch'io ma venerdì sera ho ricevuto una mail, ho risposto e ho avuto conferma solo stamattina mi hanno regalato una Tesla, ovviamente neanch'io me ne potevo capacitare ed è davvero uno dei giorni più belli della mia vita sia come persona perché sono fanatico delle rinnovabili e della tecnologia ma anche a livello professionale perché praticamente in sintesi, in estrema sintesi Tesla ha scelto di regalarmi un'auto, la Model 3 proprio per farsi pubblicità, una delle strategie di marketing che viene sfruttata ovviamente dall'azienda è il product placement, quindi io do il mio prodotto, lo faccio vedere attraverso i youtuber, in alcuni film eccetera in maniera tale che le persone interessate lo vedano e quindi siano interessate ad acquistarlo succede così nei film, nelle serie tv, in tutti i film vedete un'auto con un bel marchio perché quella azienda lì ha sponsorizzato ha messo i soldi per poter essere presente all'interno del film, della serie tv eccetera e anche su youtube succede questo tra tutte le varie campagne e marketing che Tesla ha deciso di fare mi hanno contattato perché hanno visto che essendo il canale più grande d'Italia per quanto riguarda il risparmio energetico, ovviamente l'oro è un investimento importante, non da poco, infatti non me l'aspettavo neanche io ma mi hanno regalato una Tesla così facendo che ovviamente io ne parlerò perché sono, ripeto, sono fanatico di Tesla sono molto appassionato e tanti di voi probabilmente saranno interessati, saranno spinti ad acquistare il prodotto ovviamente su 11.000 persone che seguono il canale ad oggi penso che basti che 3-4 persone acquistino l'auto e penso che il loro investimento si sia già ripagato, ovviamente su un'auto ci guadagnano e non penso ci guadagnino 1.000 euro quindi il loro è un investimento importante, l'hanno fatto anche e nella mail mi ha colpito molto congratulandosi sul fatto che io ho sempre sostenuto Tesla, nel senso ovviamente se vanno a dare l'auto a un'azienda, a una persona che sia visibilità ma che comunque ha sempre criticato Tesla invece gli sono piaciuto a livello professionale di come mi pongo e hanno fatto questo investimento qua detto questo l'auto non mi è ancora arrivata, ovviamente non me la posso ancora far vedere dovrebbe arrivare tra circa un mesetto e mezzo, però quando arriverà ovviamente faremo i video e tutto il caso, vi dico già sono di parte, sono di parte perché se mi regali un'auto ovviamente non posso non parlarne male, però ci ricordo di essere il più oggettivo possibile, di darvi tutte le indicazioni se state valutando l'acquisto di un'auto elettrica e niente, volevo solamente informarvi volevo fare un video come si deve, quindi in ufficio e tutto quanto ma mi è arrivata la conferma via mail poco fa e non ho resistito anche perché fino a stasera non torno in ufficio, quindi colgo l'occasione anche per dire a tutti quelli che aspettano le consulenze dovrete continuare ad aspettare ancora un po', mi spiace perché oggi sono in una zona industriale per valutare un investimento importante per un impianto fotovoltaico da 200 kg vato su un'azienda, c'è anche un po' di arietta quindi non so se mi sentite bene se sentite il fuscio, però volevo informarvi perché davvero è una sorpresa e niente, questo era tutto ci aspettiamo nel gruppo facebook dove vi aggiorno appena arriverà la macchina sulle storie di instagram su facebook e anche se possibile tra versi video, cerco di aggiornarvi il più possibile ovviamente sui video su youtube farò delle recensioni sull'auto, farò dei video esperienziali però quotidianamente non potrò parlarne perché non posso dedicare troppo spazio alla Tesla cioè va bene è un'ottima macchina però, questo è quanto, grazie a voi perché se ho raggiunto questo risultato è anche e soprattutto merito vostro perché se mi seguite, se mi date fiducia vuol dire che il mio lavoro funziona ma anche che da parte vostra c'è la voglia di seguire di informarsi, di approfondire, quindi davvero grazie di cuore e alla prossima, ciao!